Ok ragazzi, ben ritrovati sul Let's Play di Kingdom Hearts 3 Ci eravamo fermati qui nel mondo di Big Hero 6 E dovevo parlare, credo, con il tizio che dobbiamo andare a battere i cubo oscuri Andiamo subito Eh, sono passati un paio di giorni dal video che voi avrete visto ieri Però, cioè, dovrei ancora ricordarmi dove ci eravamo fermati Comunque, vi ricordo che c'è una playlist completa di tutti gli episodi di Kingdom Hearts 3 Che sono usciti fino a ora Quindi, mi raccomando, andatene a recuperare se ve ne siete persi qualcuno In descrizione, gruppo Facebook, Telegram e Instagram Quindi sapete dove contattarvi Ho, 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 ho Ho, 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 ho No, adesso ha bisogno di face tutti noi That's right Ready, want to destroy Our probabilità di success è You don't have to crunch the numbers, P-Max It's not the sum of our parts It's the sum of our hearts Yeah Which adds up to what Show me Almost there What? This pile of junk collected the data we needed The terror of being attacked without warning The despair of having no place to run The longing for vengeance A heart's more than that It's working together Myla, let's look from family Trusting friends In every heart, there's hope Yes You're right Huh? That's why I made sure our creation fought you Now the data contains a complete heart A heart made from conflict? That can't be real What was it you said I only have to see it For it to become real So, let's see it First, we need a vessel What's going on? Another dark cube form? Doesn't look as bad as the last one It could be a trick Usually is Yeah Wait That's B-Max What? Huh? Huh? No way B-Max Don't bother This puppet has lost his heart He won't wake up He's not a puppet B-Max He's like my family Please Give me back, my friend Yes Huh? I did promise I'd put this back where I found it But there's one One piece missing Sora You're the one who's going to complete this heart Yeah, right You can't have a heart without sadness Without loss You see You're going to destroy Hero's friend Right in front of him Wait Oh no Oh 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 Hiro, diciamo, cosa dovremmo fare? Baymax significa tutto per me, ma il chip non è chi è. Ho già fatto questo errore prima. Tadashi non vuole essere a Baymax che ci sono un po' di persone. Sora, bisogna essere fermato. Ok, aiuta a Gogo e gli altri. Tu puoi lasciare questo ragazzo a noi. Grazie. Oh no! Sora, prendi Baymax! Ok, Baymax! E inizia lo scontro finale, mi sa. Ho lo scontro aereo, grande! Almeno è un boss diverso dal solito. L'acqua non è un'occhio. Ecco d'acqua, guardate le ho scontro aereo. Quanto prima? Oh, numeri Vabbè, se è solo questo il boss ci vuole solo un botto di tempo Questo è il problema Non vedo niente No Dovai, dovai Oh, è stato così Quattro bare vite sono andate E come si autodistrugge? No Non vedo niente Non vedo niente Ehm, ok Vi è andato grosso più grosso Vi è andato grosso più grosso Lo shottiamo? Ehm, no Però io abbiamo fatto male Via Via, via, via Via, via 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 Schiva Mannaggia a te Ok a metà barra vita La sicurezza Curiamoci pure Era un razzo gigante quello Morto è morto è morto Vabbè eroro Magia mai utilizzata Vabbè Non me ne frega proprio Vabbè darmi qualche altra magia bella Grossa Gross Fammi di merda Grande botta e risposta Poi è morto è morto Poi è morto so did we stop him safety mode kicks in if he's put under too much stress so he's probably just in stasis we'll have to destroy the chip if we want to be certain but are you sure yeah dude you don't need to go that far maybe we can find another way it's the right thing to do to die hashi would have done the same thing but hero isn't that Baymax's heart that's okay Baymax is here I should be the one ow hello I am Baymax your personal what do you think I'll get Baymax's heart what do you think I'll get Baymax's heart what do you think I'll get Baymax's heart who's gonna repair him what do you think I'll get Baymax's heart he's my personal health care companion vabbè come boss finale faceva altamente cagare e l'abbiamo commettuto in modo diverso ok ma faceva altamente cagare nano armi nano ingranaggio vabbè faceva completamente cagare se lo potevano risparmiare sto boss fatelo leggermente più difficile che ne so sparava come ulti la razzi che ti malevano con uno di vita boh non lo so il proccano percorso di tracciatore flash però che tepeci città per metterti ok e quindi così abbiamo finito cioè non c'è più niente da fare abbiamo finito il gioco what sembra un po' strano ok ok sora somebody's calling us on the gummifone come us on the gummifone come us on the gummifone non c'è più Cosa faremo? Il mio cuore sarà il nostro guidao. Ciò che mostrerà il modo! A GATE! Ma dove sta? L'importante è andare dentro! Vabbè, cioè, se sono contenti loro... Loro aprono passaggi, non posso pure aprire un passaggio per un buco nero, loro ci vanno dentro! Tanto non sanno cosa fa della loro vita, dicono, vabbè, noi viviamo soltanto di passaggi. Eppure c'hanno ragione. Ah, guarda dove li ha portati! Ah, guarda dove li ha portati qui? Ah, guarda dove li ha portati? Ah, guarda dove li ha portati qui? 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 Il Rielmo di Darkness, non è sicuro per te. Forgettelo, l'impeccato. Si, non puoi fare un po' senza noi. Come on, ragazzi, pensi di questo. Anche il King e Riku si trattavano in il Rielmo di Darkness. Alcuno deve restare qui solo in caso. Se qualcosa succede per noi, te due bisogna continuare. Sera, stop it! Siamo capito, ma non vogliamo che tu andare a un'altra parte per te. Grazie, ragazzi, ma io sarò bene. Spero che Riku e il King sono sicuri. Credo a me. Siamo promissi di essere freddo. E vieni a casa bene e sicuro? Certo! Ricco, guarda! Ricco! Ricco! Ricco, guarda! Ricco, guarda! E' l'acqua, è l'acqua! E' l'acqua? E' l'acqua? E' l'acqua! 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Aspettato. C'è acqua che è una... Non c'è, mi sembri? De... Protettrici del kiblet, possiamo dire. C'è, si è fatta prendere così, vabbè. C'è poi la posera a parte di Rigou là che sta con la sua contropasso oscuro. Mi sa che Se ne è andata per sempre forse Dopo quella scena No spedotost mannaccia a me Voglio fare una bella Diverso Sora What? Che è questa abilità Sora? Così a caso O arriva Sora O non mi saprei spiegare Pure tipo diventa Sora Sora Ecco posto Sono arrivato Merdi Che tamarraggine Che tamarraggine Un'altra Oh! Sera? Mi ha avuto un po' di aiuto. Guarda il reino! Ho ho avuto! Mi ha avuto un po' di aiuto! Ok! Decidi di quale Keyblade usare! E vedo come il musetto! Dov'è? Ok, adesso dobbiamo sconfiggere l'acqua. Comunque da come ho capito... Riku ancora non ha abbandonato l'oscurità. Due barre gliel'abbiamo tolte. No, no, via, via! Oh, via! Rolla, 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 rolla! Dov'è? Vola! Vola! Signore! Guarda come vola! Guarda, avanti e indietro! Avanti e indietro! Avanti e indietro! No, dai! Non voglio ucciderla così, ti prego! No! Ah, meno male! Non è morta, ok! Ah, ci sei potuto rimanere di merda! Ma questo dovrebbe essere a boss fight! Cazzo! Vabbè! C'è l'acqua che l'oscurità proprio ti è indebolito proprio! Vabbè! 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 Quindi Questo è l'ultimo Acqua Sora Ok Finalmente mi sa che siamo riusciti a salvare Acqua In teoria E io ci spero Perché questa è tipo la terza volta che entro nel mondo oscuro Per salvarlo E serviva il mio aiuto Cioè capiamoci Acqua Acqua Van Terra Acqua Acqua It's you Thank goodness You're awake Mickey Are these The destiny islands That's right When did they fall To darkness You're in the realm of light You're home You're home You're home Wow Welcome Welcome home We did it Senza parola Veramente Bello 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 Capolavoro Adesso dobbiamo salvare Ventus Vabbè terra Purtroppo Ha fatto la sua fine di merda Oh Guarda Guarda Chi si vede Vabbè Ma Vabbè Cosa Vabbè 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 Backstabbing those guys would be stupid. If they find out, we are yesterday's toast. I mean, what's in it for me? Forgiveness. Huh? For what? Men like us. In the pursuit of science, we sometimes make terrible mistakes. Lose sight of our mission to help people, Ma ora posso aiutare qualcuno con la mia ricerca Ora posso aiutare Non sono un scienctista Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Come on, ragazzi, sono useless Sono chicken Non siamo amici Posso comprare il numero di volte che tu e io sono un'altra mano Un'altra mano Non conosco tu in la vita Fine, fine Ma ascoltate No way It's true The whole thing was his idea Huh? No stinking way He wants to atone too But he is one of the chosen So his hands are tied Hence my actions On his behalf Hence my need for you to act on my behalf Should all go awry As you said We are far from friends No one would ever suspect you Hmm So I'm not doing any fighting Correct And more importantly No benchwarming Hmm Haha Yeah baby Signami up Yes Demick's time Hehehe Ok, mo' ci sta questa alleanza di sti due Mettivatevi che traditori Perché stanno tradendo L'organizzazione 13 E direi Meno male Venite dalla porta della luce Venite Siamo più forti Noi, venite We've come a long way toward reconstructing Roxas' heart But a vessel Without that Yeah right Bodies don't grow on trees, Ienzo It's the backup plan or nothing now But The backup plan isn't a true solution Yuck Final About time Hmm Hahaha Ooh Nice place Demick's Is that you? Hey Zexion Long time How's humanity treating ya? I rejoined the nobodies But like I just can't shake the feeling I've been sweet-talked, you know We have so got to have a chat Whoa Back up What? Oh, sorry, sorry I'm getting ahead of myself I'm actually here on a top-secret mission Apparently I'm so off everyone's radar That I'm just the guy to handle a special delivery Ta-da Master Ansem Ah Well met, little Ienzo They told me you'd gone mad That you abandoned us I was just a boy But I should've known better I am truly, deeply sorry I think what matters is that you recognize the mistake Peace, Ienzo It was I who was consumed by hatred Who failed you in my obligations as your mentor Forgive me Uh, so, uh Are we cool to get on with things here? Oh Got you a present from Vexen One was all he could manage for the time being But hey He figured you guys would know what to do with it A vessel Okay Stanno succedendo troppi fatti I riguardanti la storia principale Tutti In un solo episodio Minchia Troppe informazioni Troppe Cioè praticamente adesso Ansem è tornato al laboratorio Così da poter mettere Roxas nel contenitore Cioè il corpo che ha dato Vexen Tutto un bordello You're about this aqua If you want We can take you back to Master Yen Sid's tower To rest with Ricku and the King Thank you But Venn's expecting me I promise to wake him Said I'd be right back But I'm not even close I'm in for an earful Eccolo Il castello dell'oblivio Eccolo 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 Eccolo